Iscriviti al canale Mi piace Sneed e mi piace Zoom Poi Reno però è veramente dolce Aiutami tu Per l'amor di dio fai Se pensi di non poterti fermare fallo e fallo Pensaci un attimo Però se vuoi fallo Potresti anche non farlo Vedi mi apro Però se lo vuoi fare fallo Sneed mi piace molto E' letto che per preparare il synchro Legano i due atleti insieme per mesi Quante anni quando si allenano Ah Che bellezza Bello E' bella pratica E' bella pratica E' una pratica veramente deliziosa Molto umana Ah si Pesce da bene Immaginavo fosse una stanzata E' E' il livello Lui ha livellato Livello anch'io Non perdo i due Parapapapapapapapi Bene Bene L'uccellino è molto buono L'upacchiotto fa un po' caca L'upacchiotto fa bene L'upacchiotto entra in dei vulcani Con l'upacchiotto entra in dei vulcani No Il mosino è da WP2 da 4 a 5 È veduta come play Secondo me sei tu è il più forte Cioè banalmente è il più forte Sta piacendo questo meta Non in modo particolare È abbastanza equilibrato Non è male Non è un brutto meta Ci trovo poca esoticità Sapete che a me piace C'è poca possibilità di invenzione A me piace quando i metri sono un po' Complicati Quando devi sviluppare delle build Anche lo sviluppare Il build non ortodosse Può funzionare In questo senso No colpa di niente Cioè non è un brutto meta Non è un brutto meta È un meta che Non si addice anche a me Secondo me A mio stile No 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 Allora questo è uno dei meta più bilanciati Sono ovviamente bravi a bilanciare Però Non ho messo gallo accanto a questo Ce l'ho fatto apposta Vediamo se riesce a stare in testa Alla classica Il problema è che a me mancano completamente le coppie Però io qua devo fare Level up Level up Questo è il mio modo di giocare Non sono pessimo E attenzione Non sono malissimo Perché comunque ho Loca dorata Ho dei pezzi che hanno tanto attacco Quindi Do sicuramente fastidio Questo è quello che voleva Non perdere qui Poi Lui è una build che scala Cento volte la mia Questo non significa niente Cazzo come è bello Il cavallo Potrei prenderlo Non so se prendere il livello Mi possono scrivere livella Ah Ah mi scrive livella E poi tripla Sei una vergogna Puff 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 Puffarone Sei un cazzaro Sodo Sei un cazzaro No Che clown Ragazzi No Vabbè dai Sta Sta clownata Non me l'aspettavo No Ragazzi Gli tolgo la falla amicizia Per forza Mi chiedi Di livellare E poi Tripli Vergogna Veramente ridicolo E poi si presenta con gas coiler Capito Sì sono weak Vergogna Mamma mia Che brutto gesto Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Un gesto così brutto Ma che vengo Giusto Così Ecco cane Che schifo Sì Chiaramente Prendo coiler Non so se pende Ruvio Vean 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 Ci mi ha dato due soldi per ogni De teatro che muoio Che schifo Siamo ricchi Allora io potrei triplare il Ui Che una merda che lo fai Madonna 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 Non credo di poter coldare niente Ma no ma mi basta trovare gold in ragazzi C'ho veramente infiniti soldi Devo prendere gold in gold island Nooo Nooo Non è Golden, è una bestia la via. Barone dorato Che mi manca un po' tutto Amalgama build Bello Cosa tolgo? Stai Potrò farlo con un'idea diverso Mi sono ovviamente Dimenticato Potevo buffare Piano piano Ho finalmente gold in dorata Ho finalmente gold in Dipende un po' da quel coil Chiaramente qua Beste Le due beste ci sono Ma ho tirato malissimo Eh, saremo stati ricchi Vedete che siamo uguali Guardate, devo tirare i bionni Faunta gold in Rivorne anche a coso Insomma, c'è un po' di cose da tirare La battaglia è stavante Metti di Sesto E torna a combattere Per il ballone Cioppa Non è pessimo Cioppa Meglio assoltare una regola Che vuoi farlo Assolta pure una di queste regole Quella potrebbe fare la differenza Ah, gold in dorata Che vuoi farlo Meglio gold in dorata Che vuoi far cadere Meglio così Se non abbo Ho bisogno di spiegazione Perché è meglio cavallo di serb Eh, cavallo Spawn a bestia Al cento per cento Banalmente Questo Se triplo barone Può uscire Secondo Secondo cavallo Secondo cavallo È forte Posso tagliare Cioppa Adesso Eh Dai Ribenda qualcos'altro Ha senso Il Sistema È Ciò ecco il buddy è brutto ma mi golda il doppio paione cioè o almeno può golda il mio doppio paione cioè è vero che purtroppo hita tardi però anche solo così ah buddy primo buddy primo ci può stare secondo me rischi un po' di snipe oh mamma rischi un po' di snipe se lo metti bene sodo 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 lui può avere senso steve il buddy quello di snipe diventa e questo non serve a niente cioè posso goldare un cavallo so questo è un barone hai preso quel 10% sodo giusto così giusto così giusto così giusto così perché insomma mi dici livella e poi tra i play veramente sodo dai dai sodo proprio un gesto un po' così eh gesto veramente non me l'aspettavo eh la parte tua la parte tua non me l'aspettavo insomma vabbè ti perdono eh per carità eh poi ma scusami ma mi hai messo anche zappa all'ultimo turno mamma mia so dai quanta cattiveria stai vedendo la palla no no vediamola però sapete che anche la palla a nuoto non andiamo da nessuna parte siamo veramente deboli eh vedete poi rischiamo cioè non è che rischio piassa sicura terribile quello 27 27 ragazzi poi io ho tirato male perché dovevo fare prima di là ah devo attaccare prima io questa roba è 27 28 devo togliere tanto a golden tanto a golden dopo ti avrei mai conti ma come lo devo fare questo ci piace questo ci piace tanto a barone tanto a barone è un gesto veramente incredibile beh mi piace un sacco tanto a barone ragazzi eh no non vado non vado non vado non può andare due volte lui il problema è se se me l'ha fatto 45 d'attacco tanto ciupacabia dai cavallo cavallo è di 49 scendo nica nica sarebbe stata una cazzata la tua giocata scusa se te lo dico nica mi tocca dirtelo ma mettere tanto su barone era boiata ero morto 70 barone nica nica ero deceduto mi viene la mozza veramente incredibile da un punto di vista estetico però ecco bene un altro primo nel chill nonostante possiamo dirlo vittoria nonostante sodo che per farsi per donare dovrebbe fare qualche sub giftella diciamocelo grazie a tutti